Ciao ragazzi, oggi andiamo a lavorare sui cambi di direzione. Ci mettiamo come obiettivo i tagli, taglio interno e taglio esterno. Abbiamo personalizzato un po' la posizione della paretina per rendercela più comoda per andare a fare un controllo orientato verso destra e verso sinistra. Ricordatevi sempre, io quando vado sulla fascia sinistra o taglio con l'esterno sinistro o taglio con l'interno destro. Al contrario, quando vado a fare un taglio sulla fascia destra vado a tagliare o con l'esterno destro oppure con l'interno sinistro. Ricordatevi sempre, tripla protezione, braccio, gamba d'appoggio e gamba con cui vado a fare la gestualità. Grazie.